gentili telespettatori buona giornata ci si è messo anche berlusconi a fare che cosa a cercare di distruggere il centrodestra era troppo bello no il centrodestra è avanti di dieci punti alle prossime elezioni sicuro governeremo diceva il centrodestra unito ma adesso salvini e berlusconi già da tempo stanno facendo veramente di tutto perché questo non accada da quando giorgia meloni ha avvicinato salvini e lo ha sorpassato apriti cielo apriti cielo questi due uomini salvini e berlusconi non adesso è chiaro non accettano che giorgia meloni possa guidare il centrodestra sono due persone molto piene di sé io 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 una volta io ho lavorato col proprietario di azienda che tutto il giorno continuava a dire io 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 si credeva a chissà chi era un piccolo imprenditore che aveva avuto successo nel suo campo ma lui si credeva al di sopra di tutto e di tutti questo è un difetto dei di molti imprenditori quelli di credersi al centro del mondo io sono io voi non siete un kaiser la stessa cosa ce l'ha berlusconi grande imprenditore un capitano di industria non un finto capitano come salvini capitano del niente un vero capitano di industria e ha questo problema che hanno in molti come vi dicevo lui si crede al centro del dell'attenzione lui è il grande tutti gli altri non sono nessuno per berlusconi salvini e meloni non sono nessuno non sono niente mescolato col niente infatti continua a ribadire quello che adesso vi dico il giornalista oggi c'è un'intervista sul corriere della sera un'esclusiva berlusconi il giornalista gli chiede lei è stato il federatore il leader del centrodestra per oltre 20 anni è vero che oggi pensa di poter essere lei stesso a indicare un nuovo federatore c'è un capo politico continuiamo a chiamarlo il federatore chi cacchio è il federatore cos'è questa nuova professione il federatore cos'è quello che fa le federe quello che cuce con la macchina il federatore il federatore no quello il federatore dei divani no il federatore il capo politico il capo politico del centrodestra di questo stiamo parlando berlusconi berlusconi come diceva benigni berlusconi 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 vuole trovare un capo politico per il centrodestra e ha già trovato tre possibili soluzioni ma rendetevi conto e il giornalista gli chiede salvini e meloni potrebbero diventarlo e lui dice giorgia meloni e matteo salvini hanno entrambi grandi capacità e un profilo fortemente caratterizzato da qui alle elezioni che non sono imminenti si troverà la soluzione migliore il centrodestra però deve distinguersi per l'equilibrio la serietà la coerenza delle sue proposte non per le sue questioni interne allora le questioni interne le ha create salvini e berlusconi non giorgia meloni coerenza sulle proprie proposte il l'unico capo politico incoerente che dice cose poi fa altro è salvini non è giorgia meloni serietà berlusconi e salvini mi sembrano veramente poco seri come come politici distinguersi per l'equilibrio che molto molto vicino alla coerenza distinguersi per l'equilibrio l'equilibrio vuol dire anche essere giusti nel valutare le cose e qui ci sono dei problemi equilibrio quando io vi ho detto quando tu trovi un parlamentare che fa gesti e dice cose che io ho sentito le ho viste li devi mandare via vero giorgia meloni li devi mandare via all'istante invece quella signora val qualcosa quella che diceva io sono una vera del ventennio è entrata in consiglio comunale che vergogna e quell'altro lì il barbetta o no se barbetto senza barbetta quello che fa l'eurodeputato con saluti di tutti i tipi anche di altri paesi con frasi frasi ingiustificabili ancora lì quindi tagliare col passato è tagliare io ero convinto che giorgia meloni dopo le elezioni il giorno dopo avrebbe cacciato questi due e invece niente niente distinguersi per equilibrio quando diventi un grande partito queste persone questi nostalgici mantagliati e quei due lì andavano cacciati invece niente anche matteo salvini con i video di fan page è venuto fuori un impresentabile che lavora a milano un impresentabile totale è stato cacciato no vicinanza a quegli ambienti ovvia ovvia per quanto è discutibile il servizio di fan page per quanto sia discutibile per quanto è quello non sia giornalismo però ci sono dei video che quello che si vede quello che si sente è sufficiente non c'è bisogno delle 100 200 milioni di ore di video né meloni né salvini hanno allontanato delle persone che hanno legami anzi che sono le possiamo chiamare dei veri nostalgici del del ventennio del secolo scorso non sono stati allontanati per fare dispetto a formigli per fare dispetto a fan page anche se da fastidio che siano delle trasmissioni di sinistra fortemente di sinistra ad aver trovato dei nostalgici ad averli filmati registrati andavano cacciati questo è avere equilibrio per un grande partito non lo hanno fatto e gli elettori questo lo hanno visto gli elettori lo hanno visto questo ha fatto molto più danno non aver cacciato quelle persone che tutto il circo mediatico del del che abbiamo visto ma il problema principale è che berlusconi dice che salvini e meloni sono fortemente caratterizzati ma caratterizzati da che cosa perché tu cosa sei cosa sei stato fortemente caratterizzato dalle televisioni quindi berlusconi sta tentando di distruggere il centrodestra non ha senso dire meloni o salvini non possono fare i capi politici adesso io troverò delle soluzioni ma stiamo scherzando quest'uomo qui dovrebbe ritirarsi questo qui vuol distruggere il centrodestra è un qualcosa di assolutamente inaccettabile 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 grazie a tutti e buon proseguimento di giornata